E' convinto che i fatti che ci sono stati siano stati imposti a lui dagli eventi, da quello che è stato il comportamento del Dodoli. Era il 5 gennaio del 2023 quando Sandro Mugnai uccise a fucilata il vicino Gesim Dodoli che gli stava demolendo la casa a colpi di ruspa. Una tragedia sulle colline di San Polo. Adesso il 54enne artigiano andrà a processo. Subito dopo i fatti Mugnai venne arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Qualche giorno dopo fu scarcerato dal GIP che qualificò l'episodio come legittima difesa. Al termine delle indagini preliminari invece la PM Laura Tadei ha formulato un'altra accusa eccesso di legittima difesa. E' puntualizzato su alcune circostanze per le quali il Pubblico Ministero non ravvede che nel comportamento del Mugnai si possano integrare gli estremi della legittima difesa. Vi sono delle circostanze, il numero dei colpi, la provenienza dei colpi che per il Pubblico Ministero non sono chiare. Noi abbiamo la nostra teoria e cercheremo di dimostrarla per convincere il giudice della bontà del nostro assunto. I legali di Mugnai hanno chiesto di poter ricorrere al rito abbreviato. Riteniamo che nel fascicolo ci sia già tutto. Quello che è accaduto è stato uno stress enorme, una tragedia per entrambe le famiglie fuori discussione. E non c'era bisogno di rinnovare l'istruttura dibattimentale, il fascicolo è completo. Credo ci siano tutti gli elementi per una serena valutazione da parte del magistrato che noi ci auguriamo che concluda per il nostro punto di vista. La prossima udienza è in programma per il 17 settembre. La moglie di Dodoli e i due figli si sono già costituiti parte civile.